Buongiorno a tutti, un saluto alla comunità civili e militari, si sforzo oggi la seduta consigliari con 37 punti all'ordine del giorno, seduta consigliare riviesta dal gruppo consigliare 5 stelle, la città governo è sottoscritta anche dal consigliere 5 stelle, raggiunto un quinto dei consiglieri assegnati, si predispone all'ordine del giorno e si vanno a trattare i voti. Passo la parola al segretario per l'appello. Grazie signor Presidente, buon giorno a tutti, procediamo per l'appello. Fontana, Posso, Cuccio, Masi, Mecozzi, Mucciaggio, Palozzi, Pizziganella, Spalletta, Stipe, Tocci, Brocadelli, Consoli, Paoli, Roscini, Rotondi, Scaldetti, e Partizione, Paoli, Pass Ergeb route,ciasgal ministers, caversi, Munchazzo, Paoli e Пizz pellicotti, 1,2,3,4,5,6,7,5,6,7,5,6,7,5,7,5,6,7 wagon, 12,7,5,7,5,6,5,7,5 senti 21,7,5,6,7,5,7,8,5,6,7,5,6,7. Grazie, segretario. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Il consigliere Scardecchia, l'altra sera, perché ha detto che sarebbe arrivato alle ore 14, ha rappresentato la possibilità di posticipare il punto numero 5 che riguarda la commissione speciale d'indagine al 6 e viceversa, cioè di fare il punto numero 5 a posto della dichiarazione di donna per la quale città della pace perché vorrebbe assistere al dibattito. Quindi, magari pensando che questa cosa possa succedere dopo le 14, magari è presente. Grazie, consigliere Rodondi. Non so se il consiglio si sviluppa avviene a caldo orario, speriamo visto che noi teniamo particolarmente che tutti i consiglieri siano presenti e per me in qualità di presente il consiglio non ho problemi, ma pensare bene che il punto va votato, quindi lo spostamento va votato. Adesso vediamo un attimo, che ormai decidiamo poi in un attimo i dati di gruppo, avrei chiesto di intervenire il consigliere di Rodondi, prego. Grazie. Una raccomandazione al Presidente del Consiglio, alla maggioranza e alla conferenza degli abiluppo. Se il risultato della convocazione del Consiglio comunale è questo, io invito quando si fa la conferenza degli abiluppo a valutare bene quali siano le posizioni per la scelta della convocazione di Rodondi del Consiglio comunale, perché so che da parte della minoranza, siccome questo è un consiglio convocato per la minoranza c'era la volontà di poterlo celebrare in un orario adatto anche a una maggiore partecipazione della cittadinanza, invece la scelta di convocare alle 9.30 risultava essere, dalle notizie che sono in mio possesso, una necessità di alcuni consiglieri, in particolare della maggioranza. Se il risultato è questo, io credo che ci sia da mettere in chiaro quelle che sono le modalità di scelta di popolazione del Consiglio, perché come tutti sanno i consiglieri comunali non fanno questo di mestiere, ognuno ha una propria vita, una propria attività, una propria organizzazione, quindi io credo sia rispettoso del tempo di tutti e soprattutto dei lavori che si devono fare nel rispetto della massima partecipazione dei cittadini, in pari in modo che si cede di un Consiglio comunale adatto allo scopo. Quindi una raccomandazione affinché se ci siano delle giustificazioni motivate poi se ne reggano i riscontri, siccome stamattina i riscontri non si leggono, mi trovo dispiaciuto a spostare questa cosa. La seconda raccomandazione la faccio al segretario comunale, quindi non la scelto per settembre del Consiglio, perché ancora mancano dei dati, non so se qualcuno che ha pubblicato stamattina, che attestano l'obbligo della migliazione in base al decreto legislativo che riguarda la trasparenza. Io penso che siano oltremodo scaduti i termini e quindi se c'è da provvedere, sicuro pena. Grazie. Buongiorno. Grazie consigliere Roccatelli. È mia prima cura, non appena arrivato in aula, richiamare all'ultimo i consiglieri, posso dirgli anche il sindaco. I consiglieri però avevano preannunciato come consiglieri di minoranza, anche i consiglieri di maggioranza avevano preannunciato che avevano un po' di ritardo. C'è un consigliere di maggioranza che proprio non può intervenire oggi per motivi personali, quindi io penso che sono soltanto due i consiglieri che stanno in ritardo e stanno arrivando. Comunque le ripeto che la mia premura è richiamare all'ordine a tutti i consiglieri qualora c'è un orario da rispettare, soprattutto del Consiglio Romale. Passo la parola, do il benvenuto al sindaco, con tonno, e passo la parola al segretario per rispondere alla sua richiesta. Grazie. Ho fatto fare una verifica stamattina, mancano i dati solo da parte di un consigliere che però era stato contattato e aveva dato anche rassicurazioni sul perché. Noi sappiamo purtroppo le sanzioni importanti che c'erano. Io li ero attivato, la dottoressa Pasquale mi ha mangiato una mail, era assicurandoli sui tardi di altri tre soggetti, per qualche soggetto, ma è più lo soggetto, ma penso ordinare. Grazie, segretario. Adesso mi interviene il consigliere Occi, prego. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la convocazione del Consiglio Comunale e il riferimento alle parole del consigliere Procatelli, volevo specificare che non è stato scelto l'orario per esigenze personali dei consiglieri di maggioranza, come è stato dichiarato, ma è stato scelto un orario di mattina proprio perché il Consiglio, recando molto tutto l'ordine del giorno, se si fosse svolto di pomeriggio probabilmente sarebbe andato fino a tardasera e quindi abbiamo valutato tutti insieme, se fosse meglio parlo di mattina. Per quanto riguarda il punto dell'ordine del giorno, sapendo che ci sono alcuni consiglieri di maggioranza che hanno impegni di lavoro dopo l'ora di pranzo, la maggioranza non è d'accordo a spostare il punto dell'ordine del giorno. Grazie. Non so se il gruppo Tocci può prendere una decisione così perché questo è un punto che va portato in votazione. Prima di passare a un'eventuale votazione io passo la prova da signora che ci deve dare nelle modigazioni. Prego, consigliere il voto. Grazie Presidente. Intanto il consigliere mancante sono io sulla pubblicazione dei dati trasparenti per la trasparenza. Ho parlato più po' della dottoressa Pasquati di questo problema, purtroppo è venuto a mancare il mio commercialista pochissimi mesi fa. C'è stato un problema di trasferimento di tutti i dati, quindi sono proprio in ritardo anche per il sacrumente magari una sanzione per la dichiarazione dei redditi. Ho chiesto al Comune di attendere la soluzione personale di questa vicenda. Appena possibile pubblicherò i dati. Ho parlato a due volte con la dottoressa Pasquali, pregando appunto di capire il problema personale. Volevo però cogliere l'occasione, visto che è arrivato il sindaco di fare una raccomandazione. Il 7 giugno di questo anno un ragazzo, un piccolo cittadino di lotta ferrata, ha avuto un incidente particolarmente importante. Si chiama Lorenzo Ferrini ed è figlio di un ex consigliere comunale di Giuseppina Mentone. Intanto, spiace il sindaco, devo riportare un po' le considerazioni della mamma del ragazzo che in qualche modo samenta un po' l'assenza di un conforto ufficiale da parte del sindaco e dell'amministrazione nel dimostrare solidarietà verso un cittadino che si trova attualmente in condizioni di non poter camminare. È in un centro di riabilitazione. Ho parlato proprio questa mattina con l'assessore Sisti e cercheremo, sperando di poter collaborare insieme, di attivare una raccolta fondi perché le cure che servono a questo ragazzo sono delle cure importanti dal punto di vista economico. Con il mio viaggio dopo la dottoressa Sisti non c'è stata ovviamente una richiesta di contributo economico verso l'amministrazione, ma di poterci attivare tutti insieme per poter organizzare un importante raccolta fondi sul territorio in collaborazione ovviamente con i genitori, con le associazioni locali e speriamo con la volontà da parte dell'amministrazione di essere di supporto a questo inizio. Grazie. Grazie a lei consigliere Consoli. Volevo avvisare che magari anche a livello personale io ho avuto modo di poter sentire il consigliere ex e il consigliere del nome. Poi dopo però c'è da dire che all'interno della famiglia ci sono dei fatti personali anche seppur gravi, anche personali e familiari, quindi io ho lasciato un po' un attimo che la famiglia andasse avanti per il suo percorso. Penso che sia un tema molto sentito da tutta la cittadinanza e soprattutto dall'amministrazione, sarà la nostra domanda valutare quanto da lei richiesto. Prego signor. Grazie, buongiorno a tutti. Non so se ci sono state raccomandazioni ulteriori prima di me, prima di arrivo. È una delle condizioni. Vabbè, però credo sia stata levasa per scegliere. Parto da questa ultima raccomandazione. Io personalmente ho più volte provato a chiamare la consiglia del dono, sì da un giorno successivo, ma ovviamente ho un numero sbagliato, ma non credo che mi hanno dato più volte, cioè qualche, probabilmente anche comprensibile, difficoltà di dovutare lei alla situazione. Quindi sin dal primo momento ho dato la mia rispondibilità su qualunque situazione, posso riaccogliere positivamente come ho già fatto, ma stesso resisti e mi unisco io tranquillamente penso a raccogliere l'attenzione del Consiglio Comunale a quegli inizi e diratteremo in che modo poi poterla concretizzare in un modo più utile, più opportuno. Quindi penso che questo non sia assolutamente un problema. Velocemente voglio fare alcune comunicazioni. Prima che, contro il pernunte 69 del 17 ottobre di giunta, sono stati rideterminati i canoni di affitto per la concessione dei costeggi verso il mercato governo, con una sensibile riduzione. adesso non siamo a regire comunque, molto, molto, diciamo, a nostro avviso, cospicua. Questo nell'ottica sia perché il mercato ovviamente da un po' di tempo soffre della nuova crisi sociale, l'omiglio di investimento del paese, sia perché c'erano quadri di stati che ormai da tempo erano inutilizzati. Abbiamo raccorto anche l'invito degli stessi attuali occupanti in tal senso. Questa è in linea con le programmatiche che abbiamo approvato, possiamo cercare quello possibile di abbassare il peso fiscale, comunque, i canoni, tutti i forti attività imprenditoriali e la loro sostegno. Vorrei precisare che in questa decisione abbiamo cercato per quanto consentito è possibile dalla normativa di contemporanea produzione dei canoni, accompagnandola con il cambiare dei prezzi, delle merci vendute. Nel senso, ovviamente, sappiamo bene che nel libero mercato non si può imporre a nessuno, ma comunque non partiamo bene da farlo. Però l'ottica con la quale ho impostato il ragionamento con gli attuali utilizzatori e con quelli che ci auguriamo verranno presto, è quella di dire a fronte di una riduzione che l'amministrazione considero che mi ha concesso. Mi dice l'assessore corso di circa 70 euro, quindi al metro quadro, come compluto generale. Diciamo che l'ottica di questa riduzione è di chiedere loro di accogliere, di valutare una sorta di prezzi all'utenza pubblica più contenuti. Considerando così che quello è un mercato che dovrebbe proprio come sua finalità essere più pocata al sociale che non a dire di un certo livello. Ci ho detto, mentre noi siamo qui si sta svolgendo una campagna di educazione stradale realizzata con la provincia, purtroppo in concomitanza a Piazza dei Cascoli, con gli istituti di Ricordi Devis e San Nicro. Una cosa molto simpatica e utile che proprio non possiamo seguire direttamente perché siamo qua. Continuiamo i nostri sopravoghi nei quartieri, con grande soddisfazione per chi li svolge e soprattutto per i cittadini che c'erano partecipare alle loro problematiche e c'erano presenti nelle prossime settimane. Lo seguiremo, invito tutti, qualsiasi, anche in ignoranza, se voglio, se riferisco. Noi le ultime ore di mattina alle 10 ci arriviamo in un punto e la programmazione è disponibile, poi se possibile la rendremo anche pubblica su web. Sarebbe piacevole avere anche loro con noi, anche per verificare direttamente quello che accade, ciò che c'è nel Paese. Concludo le comunicazioni con una cosa più particolare. Il dia 7 ottobre ho ricevuto una lettera da parte del, diciamo che si ricavava al Consiglio Comunale del 3 ottobre, prendendo spunto dal testo dello steodistico e lamentando una serie di inesattezze ad avviso della compregazione dei monaci e in particolare di padre Michel Gernalistensore, su alcune considerazioni che il sottoscritto nel leggere, nell'illustrare le mie programmatiche, aveva fatto. Ricevuta questa missiva, che peraltro ha avuto una risonanza abbastanza notevole, e peraltro anche, io ho detto, una notevole strumentalizzazione da parte di alcuni ambiti cittadini che hanno dovuto fare controvi e di riempire la città in un salto domandino, dando risalto a questa cosa. In alcuni casi arrivando a parlare di scomunica, sottoscritto da parte dei monaci della pazia. Il sottoscritto ha prontamente risposto, senza dare ovviamente alcun risalto alla cosa ai media, che tenendo la lettera di risposta dell'ambito che a mio avviso sarebbe stato opportuno sin dall'inizio del genere, cioè una corrispondenza privata tra la comunicazione dei monaci e il comune che ho traverato una persona al sindaco. Fatte esalto tutte le giuste o sbagliate che fossero considerazioni, ma comunque lasciando questo a un ambito, evidentemente la scelta di una parte non si è riuscita a fare così, noi abbiamo pensato di fare questo. Trascorso ormai quasi un mese da quell'evento abbiamo ovviamente sempre mandato un contatto, non è un atto di nulla di più che un normalissimo chiarimento da persone intelligenti, mi permetto di dire. Ci tengo però che oggi in Consiglio si sappia il contenuto di questa vita, perché nel Consiglio è partita sostanzialmente la cosa. Nel Consiglio proviamo a chiudere, anche se il dipatto è già superato, non siamo in contatto con il suo costante, ora con i monaci, non ci siamo problemi in alcun genere, ancora ieri abbiamo sentito la congregazione per le problematiche legate alla Ciera e stiamo comunque andando avanti come sempre. Prima di c'è la lettera vorrei evidenziare due cose, la strumentalizzazione, che dicevo Pocanzi, in alcuni casi è veramente quasi a dimensi di commenti, perché ciò che è stato fatto e detto su questa cosa deve lasciare tempo che trova e si commenta da sé, e anche il fatto che la lettera è partita da una considerazione di lettura dello stenotipistico comunale, stenotipistico, che è arrivato ovviamente ai monaci, che è un documento ufficiale e come tali i monaci l'hanno ritenuto. Ovviamente i monaci non l'hanno richiesto per questo documento, ma l'hanno avuto, e non dico altro, ovviamente non l'hanno avuto ai uffici, ma l'hanno avuto in qualche altro modo, e sappiamo anche come è arrivato, se vogliamo essere più puntuali, ma questo non interessa il dibattito. Soggiungo anche che non c'era ancora la ripresa audio-video di quel Consiglio, perché è partito dal giorno 9, quindi tutto ciò che è nato, un grande equivoco a mio adesso avviso, che è chiarito, è stato frutto di una lettura forzata, portata con una certa, come dire, insistenza probabilmente alla congregazione facendo iniziare e basilare cose che probabilmente in un colloquio sereno e tranquillità di aver di causa sarebbero state chiede nel tempo di un minuto al massimo. E su questa cosa sottolineo che il Costello di Vizio è giunto certamente alla pazienza, e da qui è uscito e sappiamo anche la quale è una cosa simpaticamente aggiunto. Leggo la lettera, la lettera della pazia e del nodo a tutti perché è stata portata all'attenzione della cittadinanza, come io poco anzi. La lettera è indirizzata al padre cumulo della comunità, con l'antica basiliana, padre Michel Pamparis, del Monasterio Sarchivo di Santa Maria Grotta Verrata, sempre conoscenza sulle eccellenze del Vescovo di Albano, consiglio Marcello Senararo, amministratore apostolico, ad un tuntum Sancte Sietis del Monasterio Sarchivo di Santa Maria Grotta Verrata. L'oggetto è risposta a sua lettera aperta al sindaco al Consiglio di una Grotta Verrata, senza data, pervenuto il 17 ottobre da indirizzo mail. Molto diverendo padre, è con vero sconcetto drammatico che ho ricevuto la sua inusuale lettera, alla quale, pur prendendo atto di alcune sue leziose puntualizzazioni, tecniche di esito economico e ecclesiastico, circa l'attuale situazione creata, sì, mi trovo costretto, anche nella mia posizione e nella mia veste ufficiale di sindaco della città di Porta Verrata, a dare adeguata risposta. Nessuno può porre in dubbio l'amore all'aspetto del sottoscritto e dell'intera città della comunità monastica fondata da San Niro da Rossano. Sono d'accordo con lei quando afferma che la nostra ambazia, senza questa comunità, testimone di una millenaria tradizione italico-pizzantina, non avrebbe senso e sarebbe una conchiglia più che vuota di paguri, come lei con la sua originalità si esprime, morta. Ambazia e la sua comunità monastica, malgrado da ogni contingente difficoltà, sono ancora testimoni vivi non soltanto dei rapporti tra cristianità d'Oriente e di Occidente, ma anche, lo dico da italiano e da sindaco della mia città, delle peculiarità storiche della nostra cultura nazionale, cui tanto deve quella europea. Tuttavia, mi vuole constatare che il contenuto della sua lettera aperta, a prescindere dalla forma pubblica, non appare essere il mezzo migliore per evitare che la pazia e il comune si perdano, come lei dice, in contrasti isterili, magari enfatizzati da chi ama pensare male e consigliare peggio, ed ha interesse a soffiare sul fuoco. Mi riprisco tra gli altri passi della sua visiva, in specifico a quello dove potrebbe sembrare che lei abbia voluto destituire a me e ai miei concittadini, con accento indubbiamente sprezzate, l'offesa che nessuno ha mai inteso fare ai nostri monaci, in quanto lei afferma, i piccoli interessi locali non dovrebbero diventare l'ostacolo a una grande visione religiosa e culturale. Quando pure difendo gli interessi di tutti i miei concittadini, non esclusi i monaci dell'appazia, non penso di curare piccoli interessi locali, ma di fare, come intendo fare, il mio dovere di sindaco e di cristiano. Diverso sarebbe se curassi soltanto quelli dei miei parenti o amici politici. Desidero concludere dicendomi ancora d'accordo con lei, niente si farà di costruttivo dentro e fuori del nostro comune e dentro e fuori della nostra barbazia, senza il nostro reciproco rispetto e senza un dialogo autentico, mi creda il suo debotissimo sindaco Gianchiero Fontana. Poi questa letta la passerò allo stesso di vista in quanto verrà lei, al peso voto. Ho concluso, grazie. Grazie sindaco. Sulla richiesta fatta dal consigliere Capogruppo attraverso Rodondi per il Movimento 5 Stelle, devo imporre a votazione lo spostamento del punto all'ordine del giorno. Faccio anche presente al segretario che è arrivato il consigliere Posso. Non so se i campi gruppo hanno da dire qualcosa sul fatto dello spostamento del punto all'ordine del giorno. Io sono favorevole, non so se chiedeva una differenza del risultato del loro spostamento. quindi anch'io sono favorevole. I campi gruppo della maggioranza hanno da dire qualcosa per quanto riguarda lo spostamento al punto all'ordine del giorno? Pagisco il voto contrario del gruppo di Forza Italia. Ok, comunque metto la votazione. Allora, voti favorevoli a quello spostamento del punto dal punto 5 al punto 6 e viceversa. Ovvio il voto cielo è un 5 fra 1 di 1 di 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. di Asselovi. Quindi rimane l'ordine del giorno come deciso nella conferenza dei carichi pubblici. Allora, prima di iniziare il titolo quanto leader, io romino i consiglieri scultatori che sono Andrea Mecosi e Chiara Stilpe per la maggioranza e Roberto Maui per la minoranza. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, risposte ad interrogazioni e interpellanze. Prima interrogazione in ordine di arrivo e di trattazione in conferenza è stata quella del protocollo 34-3-98 del 10 ottobre 2014, proposta dal consigliere Consoli e dal consigliere Maui. Se il capogruppo si voleva illustrare. Vorrei chiedere, trattandosi di risposte scritte e inviate nei 30 giorni, potrebbero essere epiloggiate sinteticamente o discusse per interro come se fossero giunte per chiarezza, per capire la melodica. E se ne va domani il regolamento per che se si risponde entro con una certa data di scritto perché il consiglio si svolge subito dopo, può essere da epilogo sintetico in avventura di consiglio, lasciando spazio con le altre che sono comunque arrivate nell'arco di 30 giorni, quindi si dibattono direttamente in consiglio, ma che sia risposta scritta o meno di risposte. il segretario ci può dare elucidazioni, prego il segretario. particolarmente il regolamento afferma che l'interroganza per l'interroganza e la risposta sono comunicate per riassunto, par consiglio, la prima donanza. Il regolamento afferma per riassunto. Quindi due interperlanze e interroganze andranno riassunte e due discusse ex nome. Sindaco, forse lei ha solo tre interrogazioni e due interperlanze, ma quindi non c'è molto vero. Scusate, siccome due discusse interperlanze e interrogazioni sono state consegnate nel consiglio del 9 ottobre e si è risposto, come diceva prima il segretario, non essendoci stato il consiglio, ma in reddazione successiva e risposta per il segretario, non avendo la possibilità di poter discutere direttamente il consiglio. Adesso andrebbero, se non credo male, riassunte rispetto alle altre due. Invece le altre due si sono state interperlanze e interrogazioni, ma direttamente il consiglio di poter risposta scritta comunque in una trattazione diretta nella segretario, non si pubblica la differenza tra i quattro atti, due in un modo e poi l'altro, per capire questo. Sì, 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 è così, il regolamento va da chiaro. Prego, consigliere. Grazie, volevo solo sottolineare che il protocollo della risposta è, entro i 30 giorni, a noi e pervenuta soltanto ieri la risposta alle interrogazioni, ci si è avvalsi durante il Consiglio del 9 di poter rispondere in forma scritta, per cui durante il Consiglio del 9, a parte la lettura, non c'è stato alcun pronunciamento né da parte dei proponenti, né da parte del sindaco, da dove il regolamento dice di riassumere e lo riassumiamo. Grazie. Se mi dà l'oggetto perché il numero di protocollo non ce l'ha riportato, ho una copia. È il 34,98 di protocollo. Sì, è il 34,98 di protocollo. Sì, ok. Di dirizzo ispettivo. Quindi parliamo dell'interpellanza, l'interpellanza oggette? L'interrogazione. L'interrogazione. L'interrogazione oggette. Grazie. Perché tutte e due sono attività di indirizzo. È il nuovo rispettivo. L'interrogazione oggette. Stiamo in contegna. Sì, sì. Sì, sì. Comunque, l'interrogazione riguarda la vicenda dei lavori eseguiti da società fronteia sulle politici del pauscolo, lavori che, diciamo, hanno costituito una violazione. Quindi io incomincio, diciamo, donna il assunto della nostra integrazione. Allora, riguardo ai lavori della tenuta altuscolo o altuscolo, sono state accettate le violazioni delle dirizie, a sempre per quale si è avuto un ordine di demolizione delle opere abusive e il successivo ricorso al par presentato dalla fronteia non è stato accolto, mentre quello del Consiglio d'Estatio ancora non è venuta annunciato. A seguito di questo il Comune ha chiesto le somme di fiducia assicurativa che montano ben 407.000 euro, che è un posto di garanzia degli adempimenti della Convenzione con la tenta fronteia. Questa richiesta, anche su questa richiesta è stata presentata, non lo salta, ma è stata risposta negativamente. Quindi, in particolare, si è giuntata la riscossione. Il problema è che l'assicurazione, la società assicuratrice della fiducia risultava non attiva dal 2007 e in realtà ha cambiato anche se, per cui adesso si trova in Panama, e quindi avevamo dei dubbi sulla possibilità di riscuotere questa somma. Quindi, l'interrogazione riguardava come si intende procedere per quel che riguarda la riscossione della somma, se in caso di non riscossione si volesse prendere delle azioni dirette nei confronti della società proprietaria, se inoltre si volesse procedere alla revoca della Convenzione con la società proprietaria, sia perché nella Convenzione c'è un articolo esplicito in cui si dice che laddove si facciano delle opere possibile la Convenzione tiene a cadere, sia perché sorge il dubbio che l'obiettivo di questo cura in realtà non sia in essere, cioè che non ci sia un'attività agricola e quindi si chiedeva se fossero predisposte delle verifiche sull'attività agricola della società fronteia. Inoltre, traendo spunto da quello che è successo riguardo la riscossione, si chiedeva se non fosse, non si chiedesse opportuno disciplinare i rapporti convenzionali con i primati e con i privati persone che vivono maggiori garanzia di solidarietà, quindi con delle società psicolatrici che offrano maggiori garanzia. Grazie. Grazie a te, consigliere Mauro, rimasto la parola al sindaco. Prego. Dunque, tentare di rassumere aspetti tecnici a quanto complesso è abbastanza altrettanto complesso, scusate il gioco di parola, quindi per cercare di far capire anche all'Auto per gli interpellanti o interroganti. Il corso di fondo era che l'interrogazione dei consigli di Mauri di Consoli, sostanzialmente è ovviamente fatto sempre che riguarda la nota vicenda del PUA, che dice giusto, verteva su alcuni aspetti. Noi, nella risposta che c'erano adesso, come dicevo, abbiamo ricordato che riguardo l'ordinanza di demolizione richiamata nell'interpellanza, essa non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, che avrà condizioni del 18 novembre prossimo, ricordando sempre che il PAN ha dichiarato l'improcedibilità e quindi con il problema l'ordinanza di demolizione non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, per cui il Comune sta a portare avanti il procedimento avendo già effettuato un solo luogo per gli accettamenti di dolte in peranza che in passato la stessa proprietà non aveva consentito di effettuare. Riguardo la fiduzione, il fatto che la circostanza che l'assicurazione sia sostanzialmente, si sia resa di fatto irreveribile e non abbia provveduto a pagare la somma garantita, per assoluto in debita considerazione i provvedimenti amministrativi che si andranno ad adottare successivamente, sia rispetto alla convenzione che ai rapporti graderari con la ditta proprietaria, ma da sé che se non si riesce ad escondere dei veri motivi ricamati, si deve procedere nel prosieguo del libero e del contenzioso. Riguardo agli altri aspetti evidenziati, abbiamo detto che gli uffici di concetto con lo studio legale stanno lavorando appunto a verificare l'intera attività produttiva agricola e quindi sul rispetto o sulla decadenza della stessa convenzione. Abbiamo anche aggiunto che si rende opportuno studiare e utilizzare il volume di maggiore garanzia nello svolgimento delle attività contrattuali e nell'ambito della normativa nazionale comunitaria, sono stati dati agli uffici indicazioni indirizzi proprio in tal senso. Tutto qua, se ci sono altre cose, anche se poi stiamo avanti perché è assurdo e quindi dovremmo fermarci a questo passaggio. Grazie Sindaco, chiedevo ai consiglieri Mauro e Consoli, ma soprattutto al consigliere Mauro e Vittorini, a lui che ha spiegato la sua interrogazione, se è soddisfatto della risposta. Prego. Grazie Presidente. Diciamo che questa interrogazione voleva in qualche modo portare l'attenzione su questa sematica, cercando di capire che cosa concretamente l'amministrazione stesse facendo in una situazione così importante anche dal punto di vista economico per il Comune. Diciamo che da quello che capisco nella risposta scritta, nella sintesi del Sindaco, tutto è ancora molto in divenire, nel senso che essenzialmente nell'ultimo periodo quello che si riuscite a fare è un'entrare nella tenuta, cosa che è stata impedita dai proprietari svariate volte. Diciamo che noi continueremo a seguire in maniera concreta questa faccenda, cercando di vedere, anche richiedendo degli atti, quello che si sta facendo proprio per garantire la costruzione dell'attività di gestione e eventualmente procedere in maniera di gestione. Anche dal punto di vista della verifica dell'attività agricola immagino che sia un lavoro di lungo termine capire se in tutti questi anni c'è stata un'attività agricola da parte della tenuta. e immagino che chiedendo bilanci e vedendo quello che hanno prodotto in questi anni si possa in qualche modo arrivare questa conclusione. Grazie. Grazie a lei consiglieri, ma non ho capito bene se lei è soddisfatto o non soddisfatto per le cose che si chiamate. Prendo atto, la mia soddisfazione sarebbe vedere i dati concreti. Capisco che i dati concreti hanno dei tempi di medio termine, quindi prendo atto che si sta facendo qualcosa e mi sicuremo con l'attenzione. Ok, grazie. Inizio, potrò mettere un puntino sulla risposta. Intanto io raccordo sempre un piacere lo stimolo e anche il supporto che arriva dall'attività della minoranza. Capisco pure che trattandosi di materia complessa, come dicevamo prima, in alcuni casi ci sono anche situazioni che sono, non è facile capire se sono meno rilasciati a tutti, consultati sicuramente sì, riproduciti forse da capire. Ma questo comunque non impedisce di andare a verificare in ogni caso il principio a cui spieghiamo il nostro agire amministrativo della massima lettura e trasparenza, ma abbiamo detto che poi si possa lamentare di aver ricevuto uno con un po' con uno con due giorni di dato rispetto alla cadenza e all'interpellanza, però questo non toglie che l'obiettivo rimane quello che dicevamo, grazie. Il fatto di chiedere veramente un bilancio o delle documentazioni, mi permetto di soggiungere, non è di rimente rispetto allo svolgimento meno dell'attività perché a quello ha aggiunto, poi se vogliamo ne potrò parlare anche di una commissione urbanistica magari dedicata o in un'altra sede, la verifica puntuale di tutta un'altra serie di aspetti che non basta rappresentare un bilancio o delle fatture o documenti che dicono prodotto X litri di olio, X litri di vino, grano e quant'altro. Quindi sappiamo tutti, siamo consapevoli dell'attenzione di cui gode in senso positivo ovviamente questa vicenda e a tutti sta ancora portarla a conclusione in un modo più oltre che utile in termini economici, ma io direi soprattutto in termini i principi morali rispetto a quello che è l'avvenuto, intermolestando che se poi il tutto sarà stato svolto come potrebbe anche darsi, probabilmente non è così perché la mica che sta prendendo la cosa proprio già lo denota, ma finché non si conclude in un'idea, è sempre bene se le dovessi nell'esprimere sentenze o giudizi che aspettano più alle aule giudiziarie che non hanno, diciamo se ci saranno stati qualcosa che probabilmente sono stati, anzi quasi certamente aspetti non rispondenti a quella che dovrebbe essere l'intera vicenda, ne prenderemo qualche e ne parleremo senza problema. Sapete bene che non è così facile, perché lo denota il fatto che siamo riusciti a entrare, non per nostra volontà, ma vi dico anche quasi per caso rispetto a programmazioni di ingresso che sono state sistematicamente luse perché purtroppo la normativa, la legge a volte consente o sperimenta diciamo delle situazioni che magari non penso sia invece facilmente superabili, siamo riusciti a entrare, rivevo, in un controllo di indigna, ovviamente fatto per il controllo, ma allo stesso tempo si è creato l'opportunità e siamo riusciti ad andare a verificare ciò che a me se non si riusciva a verificare. Detto ciò, su questa situazione ho assoluto l'impegno per trovarti senza problemi, per far sì che la cosa si risolva, come dicevo, nel modo più giusto possibile. Speriamo sempre presente che siamo in fronte a dei contenziosi molto molto complessi e per cui prima di arrivare a una conclusione definitiva, lo stesso fatto di dire che richiamo meno per l'acquisizione dell'intera, non è così semplice, per la parola possa andare in nuova libri, che adesso usano un paio di grai, due ovi vedi, un vigneto che ha risolto il problema, non è così, cosa bene anche il dossier, ma quindi su questo comunque rivelo, raccordo lo simbo che lavoriamo insieme per verificare tutto ciò. Grazie. Grazie a lei Sindaco. Passiamo alla seconda, che poi è un'interpellanza, non un'interrogazione pervenuta il 10 ottobre al rapporto 34 del 99, sempre dei consiglieri della città al governo, Mauri Pozzoli, che è un'interpellanza sulle attività di indirizzo ospettive, cioè gli atti di contratto con la Tecneco che la Convenzione ha certo. Sì, in realtà è un'interpellanza urgente senza i articolamenti 2 del regolamento del Consiglio Comunale. Vengono riportati, visto che può essere sintetica, vengono riportati all'interno della nostra interpellanza una serie di, un richiamo ad una serie di alti richiesti che diciamo non hanno visto esprisare da parte dell'amministrazione il rispetto dei giorni indicati all'interno del regolamento, dei giorni di risposta indicati all'interno del regolamento che, ahimè, in alcuni casi non si tratta di nuovo del giorno che, come di nuovo, non saremmo qui diciamo a presentare l'interpellanza, ma a volte sono stati anche 20-25 giorni di dato, quindi era soltanto una richiesta di rispetto del regolamento del Consiglio. In particolare però ci si erano affermati sulla licenza dell'esposizione delle linee programmatiche che già nella seduta del 3 ottobre avevano visto particolarmente impegnata la città e il governo a sottolineare come quella procedura dal nostro punto di vista non fosse corretta e soprattutto non fosse rispettosa del contributo al nostro avviso necessario, perlomeno così come indicato dello Stato del Regolamento del Regolamento, sull'approvazione delle linee programmatiche. Questa è, diciamo, la sintesi che noi abbiamo fatto, attendo la risposta e poi magari se ho la possibilità di esprimare, diciamo, la domanda di dare. Grazie. 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 Mentre il messo si è inizio a fare il voto proprio, avrà chiesto di intervenire il consigliere Donci, prego. Sì, io volevo fare la mia dichiarazione di voto, durante il consiglio comunale nel quale abbiamo provato le mie programmatiche c'è stata già una discussione in merito a questo argomento, il segretario ha rilasciato delle dichiarazioni tecniche delle quali ci riteniamo soddisfatti come gruppo di Forza Italia e quindi ci sentiamo di goggiare la mozione, grazie Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire in merito? O è preferibile aspettare che arrivino le votopie? Le dichiarazioni di voto? Nessuna? Il gruppo di Prateria d'Italia? Dichiarazioni di voto? Passiamo? Passate, possiamo aspettare l'arrivo delle votopie? Certo, aspettate Grazie 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 a tutti. 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 E anche per la maggior condivisione di tutti quanti mandarle anche quelle pregresse o quelle che comunque vengono trattate nell'ordine di futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passiamo a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. non so. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con tutti. Grazie a 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 tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Tocci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. voti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. voti. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. andiamo incontro. a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... 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 e tutti. e tutti. e... e tutti. e tutti. e... 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 ... ... e... ... e... ... e... ... 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 Grazie a lei, consigliere Mauri. Penso che il tema sia stato abbastanza ribattuto. Non so se qualche altro consigliere vuole intervenire. Io passerei la manzita. Prego. Grazie a tutti. 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 per un'altra, 5 stelle del procure che è esposti, per me è un modo più diretto e spiccio, ovviamente il primo è libero di pensare alla quale. Adesso alla fine mi ha rendito la domanda che andava bene anche l'opzione interna, allora io vi domando, nel vostro tavolo che è tanto spentolato sui giornali di lavoro, qual è la proposta che è emersa da quel tavolo che voi avete detto alla cittadina aveva organizzato per la gestione di impianti sportivi? Adesso alla fine di tutta la fiera esce fuori la gestione interna e mi dice pure che lei avrebbe accettato gli 80 mila, rinunciando agli altri 80 mila, quindi noi paventiamo, io ho sentito che lei ha detto prendiamo intanto gli 80 mila e andiamo avanti, ok, lo provo, lo provo, per questo gli 80 mila mi sei comportato nel suo modo fa 6 mesi, ma se prendevo gli 80 mila, se prendevo gli 80 mila e non facciamo un dibattito, avevo chiuso lì perché gli altri 80 mila non li vedevo più, la fiduzione era gli 80 mila euro, io l'ho spiegato molto bene, lei dice che non è stato in grado di fare una nozione, noi mettiamo, lui c'era qui dentro, se lei usciva un giorno dopo prendeva carta e penne e presentava una nozione, a fine mese si discuteva, faccia così, e lei ride, e la ridiamo, e la ridiamo, sapete qual è la ridà, se vogliamo chiudere la partita, e che non si vuole riconoscere un passaggio chiaro, che c'è stato un errore di base, lasciamo stare via gli attori, ma c'è stato un errore, allora punto, si va avanti, no, però alla fine, se deve uscire comunque, uno a uno va a riparte, non se ne va a uscire a riparte, perché se stiamo qua con tutti gli ore che abbiamo commesso, con tutti gli sbagli, è perché prima qualche cosa non è andata, allora queste capacità di prevedere, di analizzare, di individuare, di invocare le sibille, per capire come sarebbe andata la gestione, all'epoca non ce l'aveva nessuno, oggi, in tre mesi, in due mesi, tutti questi passaggi che stanno accadendo, sono tutti formalmente coperti da atti validi, amministrativi, non sono chiavi in mano, chi ha fai, gestisci, le stesse delle società hanno un subvento provvisorio, quando verranno a firmare la convenzione, tutti i costi, dal 14 ottobre a quando sarà la firma della convenzione, mi auguro il 5 dicembre mattina, dopo l'udienza del giorno prima, tutti quei costi saranno puntualmente evidenziati e messi in capo alle società, quindi non ci sono né gestioni gratuite, non diciamo cose che non sono vede, perché così poi sembra che qui si sta facendo una lega a brigare e così non è, io e qui l'ho presente della commissione, chi è, non mi ricordo chi è, a convocare anche dieci sedute, facciamo dieci audizioni, io vengo con tutte le carte, mi metto là davanti e vediamo qua alla fine dove stanno tutte queste, facciamo pure con le riprese a un mio video, se volete così tutti i cittadini ne sa, e vediamo punto per punto, tutto quello che è stato detto stasera, con sempre lo caderemo, avremmo detto che avrebbe lasciato quella gestione in atto, con una soluzione buonaria, una eventuale restituzione buonaria, quindi a questi soggetti che venivano qua accusandosi in un lato di debiti verso il comune, io dicevo buonariamente vabbè, quando vuoi vieni qua e darmi i soldi, ci ho messo sei mesi, non è che ci sono andato io, a soluzione è un'altra questione, non facciamo, non facciamo, non facciamo la stessa cosa, ci sono parecchie missioni, chiaramente io non ho fatto un protezione, un contraddittorio, un contraddittorio dell'evento, ti fa parlare o no, consiglio, mi dice una cosa, mi dice una cosa, mi dice, è una cosa corrisponda, che guardate a lui e saluto gli interventi, perché non ti deve, si impoca la legalità, questa bella parola, la legalità, la legalità è stata realizzata a nostro modo del servizio, quando abbiamo riuscito con la confezione, fino allora la legalità non c'era, però oggi se ne è, qui, a riempirsi tutti la bocca, vogliamo la legalità, vogliamo la legalità, vogliamo certezze, vogliamo gli altri, vogliamo il passaggio, vogliamo questo, vogliamo questo, vogliamo quello, vogliamo fare così, Presidente, la commissione è stata domani, ma quando vogliamo, tutti i giorni facciamo una sesta commissione, venite lì con gli altri puntuali, vediamo tutti voi che non sapete, che non conoscete, tutti i timori di cui andare in giro, ci fate i tavoli dello sport, di cui vedo, si da tanto, da tanto in vantaggio, qual è stata la risultanza di quel tavolo che oggi poteva avere qui in commissione essere d'aiuto? Noi abbiamo fatto due ore discussioni, alla fine di questa discussione, che sicuramente aiuta sempre, tutti e va bene, qual è la conclusione che ci aiuta a superare qualche situazione rispetto a quello che c'era prima? Io me lo manco. Allora prima di non commettere loro in futuro bisogna essere capaci di dire io ho commesso, non commettiamo di più, però questa capacità non si ha, non si ha perché ecco il discorso che dice prima, senza mancare rispetto a nessuno, la patente dirige l'agra, la sinistra già nella sua mente che tutti gli altri sono incapaci, tutti gli altri sbagliano, tutti gli altri non sanno prevedere, tutti gli altri sono infecivili, tutti gli altri non sanno fare un problema che si riprova gli altri, forse guardandoci un attimo aspetto uno potrebbe dire ma magari non è che ho sbagliato più qualcosa, perché non c'è niente di traumatico, non si sbaglia, io prima ho sbagliato, chiesto scusa il consiglio, e lo chiedo scusa anche l'altro, il problema è che non c'è proprio la capacità che a noi riprova di analisi, di poter dire se abbiamo sbagliato, andiamo avanti tutti insieme, no, adesso siamo in mente dei puntini, adesso la fine ripeto, l'opzione intermedia interna sbuga anche questa cosa da cilindri, allora se non siete in grado di esprimere una proposta unitaria come minoranza, e questo vi dispiace, anche perché voi possiate dire ciò che una minoranza unita, anche perché sia un problema, volendo per la maggioranza, ma aiuta a fare le cose parte bene, in questo caso andiamo tutti in ordine spazio, poi fate quello che volete, non solamente di nulla, allora, vogliamo tenere in commissione tutti i giorni, la mattina una sera che non è un problema, vediamo quali sono queste mancanze, poi andiamo a fare una conferenza sabato tutti insieme, e tutti quanti dichiariamo pubblicamente le cose vere, non tutti gli artifici, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, la capacità di analisi, la capacità di vedere, i fatti sono che quei signori non pagavano, punto, questo è un altro concreto, come recuperare i soldi? adesso poi non prenderemo più una lega, chi lo sa? Va bene, la curva di ufficio ovviamente non è quello, altrimenti sarebbe un disastro, ma le soluzioni devono essere vere, allora il 29 luglio potranno uscire, riunirvi, scrivere una bella proposta di diritto, una mozione, quello che ti pareva, e il primo settembre avresti inchiodato sui banchi del Consiglio a discutere, a dire, secondo noi dovete portare la gestione a casa, oppure dovete fare un soggetto intermediario, oppure dovete fare, prendere l'80%, oppure fare tutto quello che volete, però queste proposte, e mi dispiace dirlo, e ribadirlo, non ci sono, si fa sempre tempo da parlare, le convenzioni ancora non sono state firmate, c'è una determinata riprendimento, ma è una mozione che dice di approccare quella del terribile di giunta, nonostante provocare una soluzione tentativa, questa è politica, non parlare del sesso degli angeli, della capacità di prevedere, delle soluzioni pocarie e quant'altro, poi da ogni parte la concredenza, se poi invece volete sentirvi rispondere, come piace a voi, allora ho fatto il discorso. Grazie Sindaco, non c'è altro da aggiungere, dopo le 16 di 08, il Consiglio di chiudere lo scopriamo.